Oggi farò il poster alternativo della serie tv di Netflix Lupin, ma prima di iniziare con la progettazione vi ricordo che al raggiungimento di 200 iscritti farò un poster reale demenziale con persone reali dell'attacco dei giganti fatto da me naturalmente. Possiamo iniziare con la progettazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sarò estremamente sincero questo poster non mi ha fatto impazzire ma perché non mi piace la serie tv in sé però il gioco di luci col blu e l'arancione diciamo che non ci sta male. Secondo me ho gestito bene il fattore del louvre dietro con tutto quel contrasto e il blu e il nero e poi l'immagine di lui con il cappotto che l'ho allungato e tutto però potevo fare qualcosa di meglio con lui con la collana che ha in mano che ho messo quell'arancione però comunque è sempre gradevole questo poster. Vi ringrazio per la visione. Mi raccomando iscrivetevi al canale commentate se c'è qualcosa che vi interessa o comunque qualche proposta e lasciate un bel like. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Grazie. 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 Grazie.